Ognuno che è salito qua sopra ha portato un contributo dicendo io ho scritto una cosa e la leggo, un altro dice io non ho scritto niente, uno ha detto io l'ho scritto ma non la leggo, io ho qua una cosa sulla termodinamica, se vi interessa la potrei fare adesso, penso che possa essere utile, ad minchiam, è diventato un convegno un po' così. Io mi sono preparato una definizione etimologica dell'autore che a me interessa perché più che dei diritti d'autore io parlo dei doveri autorali che sono un'altra cosa che mi sembra molto interessante, essendo io con autore, regista, abbandonato diciamo da tutti e faccio io da solo, mi sono scritto che cosa dovrei fare, la definizione etimologica è accrescitore, promotore, indico lui che inventa, che scrive cose nuove per forza del proprio ingegno, ovvero che è cagione principale di un fatto e simili, un fatto e simili già comincia a dare l'idea, deriva da autorevole, autorizzare, autorità, autore, autrice, autorevolezza, non so se tutti qua in sala adesso per alzata di mani si sentono coinvolti da questa definizione, vedo che siete anche onesti intellettualmente nel senso che lo diciamo, non avete tutto questa cosa, sennò sarebbe un dramma. Per assoluto cercarmi anche Oscar Wilde che diceva sono stato tutta la mattina per raggiungere una virgola, nel pomeriggio l'ho tolta, perché questo in effetti è il lavoro autorale, io molte lo vedo così, cioè con un lavoro dove ci sono delle seghe alle mosche mostruose, che vengono però giustamente fatte pagare all'artista che dice no cazzo scusami, però quella battuta lì ci dobbiamo lavorare, no cazzo se non fa ridere non ci lavoriamo, no lavoriamoci, e vabbè lavoriamoci, andiamo avanti per tre giorni finché ci pagano. Io credo solo nella parola, la parola ferisce, la parola convince, la parola placa, questo per me è il senso dello scrivere, Ennio Flaiano, io mi sono rivolto ai grandi. Quanto dura il ruolo dell'autore, quanto è importante, è più importante l'autore, ho visto la cosa del tatuaggio e mi è impressionato, oramai si chiedono soldi per tutto, questo si è svegliato chiedendo soldi per un tatuaggio visto a fronte di una… La cosa che mi ha colpito è Flaubert che scrive proprio io sto morendo ma quella puttana di Emma Bovary vivrai in eterno e questa cosa colpisce perché i tuoi personaggi continuano a vivere, loro vivono di luce riflessa e tu invece rimani lì, rimani lì e devi continuare a scrivere. La parola copyright analizzata attentamente vuol dire copia giusto, dall'inglese, è corretto, copyright, il diritto d'autore e il dovere d'autore secondo me è quello di ascoltare. Plutarco ci diceva che la natura ci dà due orecchie e una lingua sola perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. La funzione dell'ascolto dell'autore per me è fondamentale, sono contento di avere qui con me anche delle persone con cui ho lavorato, Andrea, Gorno, Abbottura con cui lavoro tutt'oggi, ho lavorato con molti di loro e molti di loro hanno lavorato con altri. Cioè è una forma di crescita, è una palestra, lavorare con l'autore è importantissima per chi fa il mio mestiere, perché la palestra nel senso greco del termine non è chi tira su più pesi, ma se tu tiri su 100 e io ne tiro su 30, io devo vedere come tira su i miei 30 e come tu tiri su i tuoi 100. Per cui secondo me il livellamento dell'autore è permetterti di lavorare con te e crescere insieme a un autore. Ed è giusto anche però voler fare un lavoro di qualità, un lavoro di qualità secondo me viene fuori dalla sparing partnership, cioè mi viene in mente l'immagine del pugilato, per me l'autore è quella persona che prima mi prepara in palestra, ci alleniamo io e lui, poi ci alleniamo con una terza figura e l'autore sta sotto al bordo ring e mi dice occhio come schivare, perché la giorno del match l'autore non può essere sul ring con me, però avrei piacere che fosse sotto, che fosse lì, che fosse il secondo, cioè che mi guardasse e non che magari, non mi piacerebbe vedere un autore che mi manda una mail il giorno del ring, che quando vado a giocare mi dice sono con te, tu vai, però lo trovi a 100 km d'altr'ora magari con un altro pugile, cioè a me piacerebbe un autore in quel momento che ti è a fianco, che ti può fare qualcosa insieme.